Musica 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 Benvenuti su mio canale YouTube Musica Buda Už Představu Dane 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 cosa è qui ci si risoce in primo trotto audio i ho qui , ho ho 3 , 4 , 5 , 6 , 7 7 casc merrylay i più vissi perché i vecchi che come rft e innamorizzate ho molto più pezzi ventaggi faccio con quattro di pizze e spero che alcuni di loro saranno bene lavorare alcuni di loro saranno per servizio o per servizio quindi se siete interessati, potete vedere i video con tessi Tate Decks Tate Decks Stereo Cassette Decks RS-TR373M2 produrato in Japona in the years 1994 up to 2001 this device looks very nice I can say it is not from from my usual suppliers this device is from my friend from his living room so let's see how it works or not works I will one original cassette with old Czech music and one old cassette Maxell I will try to record something on this tape so the left cassette play back front and now is connected the signal from the normal CD player let's try recording I can see you before the bass and some of my fingers are really funny so i have a backup so i have a backup so i have a backup Zvuková, zvuková, zvuková sko soffi la Zvuková la voce la voce la voce la voce quindi la voce la voce vedete foto grazie per la vostra attenzione e alla fine del video mi chiede un pochi parole sui miei idee perché fino ad ora mi vendiamo il mio audio 99% dei dispositivi sono per vendere ma ho vendere ma ho idea che sia perfetto se non sia necessario vendere e che posso dare tutti i dispositivi per vendere 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 ma magari in futuro può essere possibile quindi se ti piace questa idea puoi abcciare il mio canale YouTube e spiegare i miei video con i vostri amici perché se si spiega e aumenta e aumenta il volume di view ma penso che può essere possibile quindi se ti piace questa idea puoi mi aiutare con questa idea con questa idea grazie molto a spero che ti piace questo video grazie